Un avvocato, Gabriella Petrone, è stata oggetto di un atto intimidatorio a Spezzano, Albanese, in provincia di Cosenza. Individui non identificati hanno incendiato l'auto dell'avvocato, una Citroen C3, causandone la completa distruzione. I carabinieri della compagnia di San Marco Argentano hanno avviato un'indagine sull'episodio, esaminando tutte le possibili ipotesi riguardo alla sua matrice. Gabriella Petrone è iscritta al foro di Castrovillari e si occupa sia di questioni civili che penali. Il presidente Nicoletta Bauleo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari hanno espresso la loro ampia e sentita solidarietà e vicinanza a Gabriella Petrone mediante una nota ufficiale. Nella dichiarazione condannano fermamente l'atto vile e auspicano che la magistratura, insieme alle forze dell'ordine, possa individuare rapidamente e perseguire legalmente i responsabili. di tale gesto.